E' una tradizione che non c'è. Praticamente non sarà lo cimini di che l'espuso viene prendere l'espusa e non gli evita, non gli evita tutto ciò che non può trovare in giro. E' un'altra parte. Come ti c'è? Ah, non c'è, c'è. Sei pare. Non gli evita delle tortebosche, delle perre, delle mueve che non hanno sempre per lavorare in campagna e tutto ciò che non c'è. Pare per far trovare l'espuso. Non ci c'è pare, eh? S'è anche l'esplosione. Sì, è bello. Di che arriva l'espuso, ha dei tuoi di bruciare, o dei puriocimini di maniera che possa passare l'espusa tranquille. Siamo contenta per la bua perché si mora, però non è grave, che è modesto, non ti voglio, non so, tu e che è. Vieni a preparare, preparare! Sì, perché sono in charge, perché sono i miei amici, sono i miei amici e le ho detto che sono i miei nonna, devo continuare a morire in sedio, siamo continui a stare in sedio. Un'abbraccio al Perino! La sposa, la tengo in mente, la devo attraversare tutte le barriere, che è un po' più attraverso lì perché non siamo impegnati. Iniziamo il pallone, iniziamo il pallone, iniziamo il pallone, iniziamo il pallone. Ora faccio finire quella, ora. Alza solo gli occhi verso me, ok? E provo ad appoggiare le altre mani sullo bucchè, ok? Ok, una vita ma che lo bucchè, non lo vediamo, ok? Stretching Patrik, sei che tu sei che? Come teni? Ti metti con le gagne. 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 Quando la riva arriva là, la puoi prendere, e comunque debruire bene, tu valli alla maria. Però faccio trarre la sacchia. Perché noi, che teniamo il nostro buo bene, non ne pensiamo via parere. C'è la tradizione di barriere per noi, vedete che sarebbe meno che continuano sentire un pregio. Nostra via, i nostri nonni ne ho avuto contato. Un giorno, due, i pussi in via, ci sono drulla. Però, fin so che tu puoi fare le cozzette e le barriere, le amiche che pussi in nostra via. non ti metti con le gagne. Ma non ti metti con paura, ma non ti metti con paura. Non ti metti con paura. Non ti metti con paura. Mi seri. sei pronto? buttalo giù facciamolo giù facciamolo giù facciamolo giù quando fai una pietra si è perciamolo guarda 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 Prego, prego! Tu da sex! Che piegate lì! Prego, prego, prego! Nooo! 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 Oh, Dio! Nooo! 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 Passaggio c'è! Non si carica la sua carriota! Non si carica la sua carriota! Nooo! 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 C'è un po' corto. Nooo! No, non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Quando andiamo a luogo di nozze, le famiglie sono in luogo, si ritrovano tutte le nuove, e le facciano delle fiori e le facciano l'occasione. Vengono più vetosi all'uovo, per esempio del ragme, che vanno a scioccare, e poi ritornano lì, gli espusi. Mi chiedevo, se non finisce un po' di vetosi. Sì, sì. Dicchi gli espusi tornano due a giù a nozze, e passano ecchi a menten, eravamo mietti, e si vengono tutte le mietti, tutto adornato, e fanno un argolo di fiori, e mettono in mare, vengono gli sposi. E davanti al mare di oggi, siamo noi uomo, che facciamo anche le barriere, e quando ritornano due a giù a nozze, sono le famiglie che apprestano su benvenuti a noi le espusi. Giego Gio, Gio, Gio-Gio... Gio Gio Gio, Gio Gio, Gio... Gio Gio Gio, Gio... Sto accortando. Sto accortando.